4 modi per attrarre un suo messaggio con la legge di attrazione. Provalo! Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica del mio video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, e seguimi su TikTok. E adesso veniamo al tema. 4 modi per attrarre un suo messaggio con la legge di attrazione. Provalo! Allora, se desideri che un uomo, desideri un uomo che ti scriva, bene, puoi programmare la tua mente in modo che queste cose avvengano, che queste cose si manifestino naturalmente. Utilizzerai la legge di attrazione per attrarre però una persona che sia veramente buona e giusta per te. Per attrarre una persona che ti possa dare veramente qualcosa. E questo è fondamentale. Perché attraverso la mentalizzazione, diciamo, puoi ottenere dei risultati. L'importante è che fai le cose giuste. Allora, quali sono questi quattro modi per affinché un suo messaggio si manifesti? Credo che questo sia molto importante perché è davvero fondamentale. saper imparare a utilizzare la legge di attrazione. Perché la legge di attrazione ci dà un'altra possibilità. Ci dà la possibilità di imparare veramente il distacco del risultato. Perché sono due cose che sono correlate e, diciamoci la verità, sono importantissime. Senza il distacco del risultato difficilmente potrai attrarre qualcosa nella tua vita. E imparare quindi l'arte del distacco del risultato direi che è l'elemento fondamentale per poter ottenere dei risultati importanti, dei risultati validi nella tua vita. Allora, che cosa fare? Quali sono questi quattro modi? Allora, il primo è quello di utilizzare l'immaginazione attiva. L'immaginazione è importantissima. Immaginare significa in me, mago, agire. Lasciare agire la magia dentro di te. Allora, immagina che cosa vuoi che ti iscriva quella persona. Visualizza il messaggio. Includi molti dettagli. Attraverso l'immaginazione noi possiamo creare dei mondi. Quindi anche proprio in questo momento, prova a chiudere gli occhi e mentre ascolto il suono della mia voce, immagina veramente questa persona che ti iscriva, che ti iscrive e immagina che ti iscrive proprio quello che tu vuoi. Devi metterci l'intenzione. L'intenzione, ma con distacco del risultato, però, vuol dire che il distacco del risultato vuol dire che tu vivi bene lo stesso, anche se questo qua non ti iscrive. Questo per te deve essere un esperimento. Ecco, la legge di attrazione funziona quando viene vissuta come un esperimento, senza bisogno. perché nel momento in cui il sogno diventa un bisogno, in quel momento preciso sei fottuto, in quel momento preciso sei fregata o fregato. È davvero importante invece imparare a utilizzare proprio la legge di attrazione nel modo migliore, per poter far sì che le cose si manifestino, per poter far sì che le cose avvengano. Questo è davvero un passo molto importante per raggiungere dei risultati e anche dei risultati positivi. E quindi l'immaginazione attiva è fondamentale. Poi il secondo punto sono le affermazioni. Le affermazioni positive. Quindi ripetere come un mantra, perché oltre alla visualizzazione di a te stessa, a te stesso, che cosa vuoi che questa persona faccia. Puoi anche ripetelo come un mantra. Una strategia molto utile è quella di utilizzare una candela, accendere una candela, guardare la candela e ripetere come un mantra, come una litania, entrando in uno stato di rilassamento sempre più profondo. Non so se faccio un esempio. Ad esempio, la persona X dici il nome, mi scrive che mi ama. Adesso facciamo un esempio. Francesca mi scrive che mi ama. E lo ripeti guardando magari la candela. In modo, come se fosse una litania, senza, diciamo, metterci il bisogno. Come se recitassi qualcosa. Questo è, diciamo, è molto importante. Altra cosa fondamentale è, diciamo, scrivere. Tenere un, fare uno scritto dove tu puoi raccontare in questo scritto, su un foglio, che cosa tu vuoi, diciamo, che cosa vuoi che questa persona, che questa persona faccia. Questo è un altro, un altro modo fondamentale perché è esattamente, diciamo, come dire, un altro modo per manifestare l'intenzione. Diciamo che la legge dell'attrazione risponda all'intenzione. E poi, l'ultimo passo, che è molto importante, è visualizza te stesso con quella persona e magari in uno scambio di messaggi o in una situazione particolare. L'importante anche qua è utilizzare bene la visualizzazione. È un altro passo che direi è fondamentale, di fondamentale importanza per ottenere dei risultati. Ovviamente c'è un parametro e questo parametro devi tenerlo presente che è il distacco del risultato. Non puoi fare questo se hai degli attaccamenti, non puoi fare questo se credi che ti senti bisognoso perché questa è un po' la chiave di volta, la B I davanti al sogno e lo che lo fa diventare un bisogno è quello che rovina tutto. Soltanto l'anima con distacco del risultato, soltanto se tu avrai davvero un forte distacco del risultato potrai far cadere gli eventi, potrai far cadere le cose. sembra una cosa banale ma non lo è assolutamente. Il distacco del risultato esprimere un'intenzione con distacco del risultato è veramente miracoloso, è veramente miracoloso. L'intenzione è la fede. Se tu hai fede che una cosa accada ma se hai veramente fede questa cosa accadrà se non sarai bisognoso perché le persone bisognose hanno paura che non accada e tu invece dentro di te devi esserci la certezza quindi chi ha fede non ha paura e chi ha paura non può avere fede. Bene per questo video è tutto condividilo con i tuoi amici iscriviti al canale attiva la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video seguimi su Instagram Massimo Tramasco Ufficiale e seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento abbonamento live per partecipare alle live abbonamento base con lezioni mirate abbonamento top con lezioni mirate a videoregistrazione seminar dal vivo abbonamento master consulting ancora in più una consulenza telefonica ciao a tutti